De Pari ci avrai ripensato sicuramente a questa gara, chiudiamola subito a freddo, qual è il commento sulla gara con l'Aquila? Lo stesso commento che ho fatto dopo la partita, anche perché io poi la sera stessa l'ho rivista la partita tramite TV6, quindi ha giocato bene la squadra contro un organico l'Aquila, parlo dell'Aquila, che non c'è paragone col nostro, quindi ha giocato alla Pari, il solito episodio ci ha punito, abbiamo perso immeritatamente ancora una volta, però è la terza sconfitta consecutiva in casa, quindi dobbiamo invertire il trend anche perché non si può sempre vincere fuori casa, è difficilissimo vincere fuori casa, quindi adesso pensiamo alla Mesa e poi vediamo di invertire questo trend negativo. Nicolás Di Filippo, allora, è arrivata quest'altra sconfitta casalinga per un Chiedi che fuori casa fa vedere grandi cose, poi in casa, che succede? Ma sicuramente queste ultime due partite venivamo comunque da sconfitte, avevamo una pressione diversa, e noi io credo che ce la siamo giocata, soprattutto quest'ultima con l'Aquila, come dovevamo giocarcela, però è andata male e cercheremo di, senza altro ora in trasferta e la prossima in casa, di fare meglio. Senti, tu sei agevolato dall'età sicuramente, classe 93 in C, si sa quali sono i vantaggi a far giocare ragazzi della tua età, però ti sei ritagliato tanti spazi, anche meritando sul campo. Com'è stato l'impatto con la categoria, tu che arrivi da un settore giovanile? Ma io anche l'anno scorso mi sono sempre allenato comunque in prima squadra, ho fatto poche presenze, però diciamo che l'AC più o meno la conosco, perché anche due anni fa ero nel giro, quindi... Ma è una categoria in cui tutte le domeniche il risultato è in bilico, devi andare sempre concentrato, perché sennò si rischiano le brutte figure, quindi ogni partita è una storia a sé, bisogna stare sul pezzo sempre. Da difensore, meglio a tre o a quattro? Ma io personalmente mi trovo meglio a tre, perché c'è un difensore in più, quindi ti senti sempre più sicuro e più coperto, però anche a quattro con il modo di giocare del mister ci sono sempre le giuste coperture, quindi non si rischia niente, a parte ogni tanto capita che si commettono degli errori, perché se non si prenderebbe mai gol. Vigor Lamezia, squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo, che quest'anno puntava a ripetersi, invece sta avendo più di una difficoltà. Sì, ma la posizione che ho qua attualmente non è quella che gli compete, perché il Vigor Lamezia ha i nomi e sicuramente non deve stare lì in basso, e io penso che piano piano si riprenderà, però noi dobbiamo andare lì e fare la nostra partita, come abbiamo fatto le ultime due trasferte, e puntiamo a fare il risultato pieno perché dobbiamo rimetterci per la nostra strada. Ultimissima, il Chieti dove può arrivare? Noi, come dice il mister, pensiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti, cioè la salvezza, e una volta arrivati a questi 40 punti vediamo un po' e poi ci si diverte, però dobbiamo arrivare il prima possibile alla salvezza, questo è l'obiettivo. Grazie.